nuova puntata dei libri costruttivi la rubrica dove vi parlo di libri utili per la crescita professionale ma anche personale oggi vi presento un libro dal titolo analisi strutturale per il recupero antisismico scritto dagli ingegneri kanji caraboni e de maria è un libro molto interessante sugli edifici in muratura in particolare sulle analisi dei cinematismi anche questo come quello del professor gersi di cui vi ho parlato in un precedente video di questa rubrica è consigliato sia agli studenti ingegneria che ai professionisti se non l'avete se non è già in vostro possesso qui sotto in descrizione del video vi lascio il link per acquistarlo bene iniziamo chiaramente iniziamo dalla copertina dove così potete vedere che l'editore è il dei il titolo completo è analisi strutturale per il recupero antisismico calcolo dei cinematismi per edifici in muratura secondo le ntc i libri almeno personalmente li valuto inizialmente se acquistarli o meno in base all'indice quindi vi ho riportato alcune alcune appunto alcune pagine mi sono dimenticato di dire all'inizio del video che voi voi come sapete vi io lascio sempre le mie slide che mostro nei video sul canale telegram sul mio canale telegram però queste qui per ovvi motivi di privacy insomma di diritti più che price diritti di autore non posso lasciarvi appunto sul canale telegram quindi saranno solo mostrate appunto all'interno di questo video e saranno alcune parti quindi cominciamo dall'indice qui vediamo appunto che c'è un primo richiamo della meccanica delle murature dove all'interno tra l'altro c'è un interessante modello di archi virtuali che sinceramente ho trovato praticamente solo anche la prima volta in un corso che ho seguito di aggiornamento proprio con con l'ingegner kanji e dove ha spiegato questo questo tipo di modello molto interessante quindi se non lo conoscete già questo già solo questo è un motivo per acquistare questo libro poi il secondo capitolo si parla di individuazione modello dei cinematismi di collasso se stiamo parlando sempre di edifici in muratura e poi ci sono capitolo 3 4 e 5 qui non ve l'ho portato tutto comunque dove si parla di analisi limite analisi cinematica lineare analisi cinematica non lineare poi ci sono due interessantissimi esempi come vedete al capitolo 8 e al capitolo 9 il primo è relativo all'analisi della chiesa di userna e il secondo relativo a un edificio che è a dubbio molto interessante anche questi aspetti dove ci sono anche alcuni particolari inoltre c'è anche una valutazione nel capitolo 10 come vediamo della sicurezza degli elementi strutturali in legno e nel capitolo 11 dei solai e delle coperture in legno insomma quindi c'è veramente tanta carne al fuoco all'interno di questo veramente tante cose interessante ecco all'interno di questo libro adesso vi mostro alcune immagini e alcune specifiche che ritengo così interessanti anche per incuriosirvi per poi andare a approfondire ed acquistare questo libro perché veramente ve lo consiglio capitolo 1 vi ho riportato alcune immagini sui richiami della meccanica delle murature questo diciamo è un sono delle delle illustrazioni delle immagini che abbiamo visto anche già in altri libri quindi la differenza fra l'azione sismica complanare e ortogonale alla parete quindi i due diversi diciamo le due diverse modalità di risposta di una parete in muratura nel caso in cui l'azione sismica è parallela oppure perpendicolare alla stessa parete e nell'immagine di destra vediamo la stessa parete con diciamo sollecitata dal sisma parallelo e ortogonale come diciamo cambia la sua la sua risposta nel nel caso in cui viene inserita una catena o delle catene insomma per contrastare l'azione sismica per aiutare la parete nella sua risposta qui sempre nel capitolo 1 si parla ecco di quel modello di archi virtuali di cui vi avevo accennato poco fa durante appunto mentre vedevamo l'indice e qui adesso non voglio non entro nello specifico anche ripeto la mia una velocissima recensione con alcune immagini solo per così farvi capire quanto può essere interessante questo libro ma non vuole certo essere un riepilogo assolutamente anche perché ripeto ci sono dei diritti d'autore comunque qui vediamo appunto già alcune immagini dove si vede uno schema del modello di comportamento di archi virtuali con a confronto vediamo a destra l'effetto dinamico prodotto su un modello in scala anche qui si può capire i tre settori come vediamo ci sono in caso di sollecitazione nel piano della parete si può valutare con questo arco e con queste linee critiche che dividono la parete in tre settori che si può riconoscere lo schema diciamo lo schema realizzato graficamente sulla sinistra si può riconoscere anche nel modello reale diciamo realizzato in laboratorio qui parliamo ancora di appunto archi virtuali modello di archi virtuali dove si si vede che all'interno di una parete soggetta a una zona sismica complanare all'interno diciamo la parte interna gli archi virtuali sono tra loro si contrastano e quindi si aiutano e la problematica rimane sulle parti di estremità della parete perché i semiarchi come vediamo non sono contrastati da niente e quindi è necessario in qualche maniera aiutare questa parete per evitare poi dopo fessurazioni ribattamente fuori piano eccetera si può fare come si vede qui con una catena col capo chiave che contrasta appunto la spinta del semi arco oppure altre volte in passato si utilizzava soprattutto si usavano dei contraforti che appunto aiutavano a riportare questa spinta verso verso terra siamo ancora in questa slide nel capitolo 1 richiami di meccanica delle murature vi ho riportato questa slide perché gli ingegneri che hanno scritto questo bellissimo libro hanno come dire evidenziato un aspetto interessantissimo che le murature in generale ma in particolare quelle storiche si possono distinguere in due categorie quelle che ricercano le connessioni orizzontali nel piano attraverso l'ingranamento degli elementi che normalmente sono squadrati un po allungati che sono in grado di assicurare l'effetto catena quelle invece che non potendo contare su questi ingranamenti efficaci si affidano al reciproco contrasto che si stavano appunto fra i blocchi che sono sbozzati o arrotondati e che li aiutano con questo contrasto a generare uno stato di pre compressione orizzontale nel piano in maniera tale da compensare il difetto della resistenza a trazione qui vediamo meglio questo effetto catena viene spiegato in queste immagini a sinistra abbiamo appunto dove ci sono elementi squadrati viene evidenziato la dinamica di collasso sia diciamo in un modello sia poi invece in un modello appunto grafico ma anche poi in un modello reale che si è sollecitato nel piano la resistenza a trazione della catena in muratura è assicurata come viene detto in questa in questa nota dall'attrito fra le pietre e dalla coesione della malta come vediamo invece a destra dice questo è un apparecchio abruzzese che funziona sostanzialmente perché si innescano degli sforzi di contrasto che aiutano a generare un utile stato di pre compressione orizzontale quindi la parte diciamo a destra di muratura a destra lavora senza effetto catena ma semplicemente perché diciamo è per appunto come vengono montati questi elementi e per il contrasto mutuo fra loro qui ancora si parla dell'effetto catena dove si fa vedere che quando si supera il limite di fessurazione l'effetto catena viene compromesso e si innesca la lesione nella parete questa invece è un'altra immagine che vi ho voluto riportare ripeto siamo sempre nei richiami di meccaniche della muratura è molto bello secondo me questa questa foto adesso parte scusate che è un po deformata ma ho fatto le foto direttamente dal libro quindi non sono riuscito a farle particolarmente belle però si comprende appunto che queste finestre questa muratura antica romana ci sono tanti archi tra loro che si contrastano e quindi alla fine c'è un effetto di arco globale che va a scaricare le forze molto 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 interessante per concludere se non ricordo male sì ok è l'ultima del capitolo 1 l'ultima slide del capitolo 1 vi ho riportato questo che diciamo è un esempio classico di cinematismo appunto strutturale in un edificio in muratura dove a sinistra si fa vedere l'analisi con l'ipotesi di collasso e a destra l'effettivo collasso avvenuto nell'edificio quindi c'è stata appunto questa comparazione dove far vedere effettivamente che cosa è successo nell'edificio e quali sono state dove sono le cerniere e le varie masse messe in gioco passiamo al capitolo 2 quindi qui siamo nella individuazione dei meccanismi di collasso e questa ve l'ho riportata perché un po' si viene appunto a parlare ancora di modello di archi virtuali e si parla in particolare del dell'angolo caratteristico di lesionamento che varia a seconda delle murature e quindi per individuarlo adesso è difficile con con certezza ma ci sono dei diciamo delle indicazioni che dopo andremo a vedere in altre altre slide dove con varie tipologie di muratura si può avere come dire già prima di fare l'analisi una indicazione di questo angolo dove può crearsi la lesione appunto nella parete in muratura soggette ad azioni sismiche nel piano stesso modello quindi vediamo questo è una parete standard senza aperture e senza carichi concentrati qui siamo invece un altro un altro un altro elemento dove fa vedere come viene modificato il comportamento della parete se c'è un carico concentrato sulla sommità della parete dice che appunto dove c'è il carico concentrato la lesione tende a dirigersi spontaneamente in quella zona e la forza sismica quindi spingente viene interamente scaricata sul cuneo che si crea mentre il carico verticale rimane applicato alla parete stabile terza situazione invece con un'apertura collocate vicino all'angolo come sappiamo la normativa attuale diciamo negli edifici muratura da dei limiti no dobbiamo stare almeno di un metro dagli angoli adesso questo non poi ne ho parlato anche in altri video e quindi c'è un motivo il motivo è proprio perché ha delle aperture realizzate vicino agli angoli diciamo riducono la sicurezza della parete e infatti qui si può vedere che la linea di fessurazione intercetta l'apertura e poi viene deviata e praticamente viene deviato lo strappo quindi aumentando il cuneo e qui afferma anche in questa in questa immagine viene detto che se l'apertura non è molto grande il macro elemento distaccato riesce a conservare la sua geometria nelle prime fasi del cinematismo poi chiaramente li dipende anche dalla tipologia di muratura ultima diciamo ultimo caso dice che quando le aperture invece sono grandi quindi di dimensioni considerevoli il cuneo perde stabilità e tende a dividersi in due parti o a disgregarsi del tutto ripeto se la motura se la muratura di scarsa qualità come vi ho detto prima questo fenomeno riduce drasticamente il momento resistente quindi no fare finestre troppo vicino agli angoli ma neanche addirittura non fare troppo grandi ecco perché chiaramente se facciamo una finestrina piccola incide molto meno rispetto alla problematica di una finestra molto grande e la sicurezza viene assolutamente ridotta di più siamo ancora nel capitolo 2 qui vi ho riportato un altro un'altra immagine dove si vede un cinematismo di danno a sinistra la configurazione esistente e in quella di destra la configurazione di progetto dove viene applicato viene inserito un tirante e una catena e a quel punto appare l'arco di discharico capitolo 4 analisi cinematica lineare questa ve l'ho riportata per appunto dove viene appunto dato delle indicazioni sull'angolo critico di lesionamento che abbiamo visto prima e qui in basso dell'immagine ci sono appunto dei valori dei valori orientativi dati dal da guerrieri nel manuale per la riabilitazione e ricostruzione postissimica degli edifici e dove viene detto che la muratura di cattiva qualità ha un angolo compreso fra 0 30 gradi la muratura di qualità intermedia ha un angolo compreso fra i 30 e 45 gradi e invece una buona muratura ha un angolo di critico di lesionamento addirittura superiore a 45 gradi e qui viene affermato chiaramente che in questo caso occorre fare attenzione perché se la muratura è veramente di buona qualità con un angolo di critico di lesionamento superiore a 45 gradi è molto probabile che il pannello murario si lesioni per taglio o per scorrimento e magari non si forma il cuneo di rotazione quindi non si può innestare il meccanismo qui siamo sempre appunto nel capitolo 4 fa vedere proprio così questo un po graficamente come si modifica l'angolo critico di lesionamento per le diverse murature dove in alto a sinistra abbiamo la muratura classica in mattoni di laterizio e abbiamo quindi un angolo critico molto grande diciamo angolo invece in basso a destra dove invece abbiamo una muratura molto caotica l'angolo di lesionamento di scarsa qualità l'angolo di lesionamento viene sicuramente a ridursi in maniera sostanziale in questa tabella viene fatta una sintesi dei parametri relativi alla muratura e quale funzione svolgono all'interno dell'analisi limite appunto c'è il peso specifico che serve per valutare le azioni sismiche inerziali la resistenza tangenziale di calcolo per la valutazione della resistenza coesiva la resistenza compressione di calcolo che serve per valutare quanto si arretra la cerniera di rotazione nello spessore del muro e il coefficiente d'attrito che è la valutazione della resistenza attritiva l'angolo critico di lesionamento che abbiamo visto prima per la valutazione della forma dei cuni di distacco poi c'è l'indice iqm di qualità murale di cui ho parlato molto in un video che ho già fatto e vi invito andare a vedere perché c'è anche un app appunto per questa per questo valutazione di questo indice di qualità muraria che è fondamentale il primo passo sempre da fare quando si interviene su un edificio di muratura e capire con quale quanto è buona quella muratura ecco prima di fare qualsiasi ragionamento di analisi cinematica o analisi addirittura globale quindi il primo passo è capire la muratura vi invito assolutamente andare a rivedere il video che ho fatto qualche mese fa sull'indice di qualità muraria. Sempre il capitolo 4 questo invece ve l'ho riportata perché in questi ultimi mesi si è parlato molto di aggregati edilizzi per il sisma bonus 110% e quindi niente questo è molto molto secondo me sono due immagini molto interessanti perché fa capire soprattutto che in un aggregato edilizio quando il sisma arriva diciamo in direzione longitudinale all'aggregato edilizio gli elementi le parti all'interno dell'aggregato sono sicuramente più sicure rispetto a parità chiaramente di costruzione e di stato di manutenzione quindi diciamo a parità di tutto le parti centrali sono più sicure delle parti estreme in un aggregato perché come vediamo la cellula che è in esame viene come dire se arriva il sisma da sinistra viene aiutata dall'edificio che ha la sua destra e viceversa quindi le forze sismiche vengono a scaricarsi un po' sui fabbricati a fianco contigui con questa azione di contrasto che aiuta la resistenza della cellula analizzata qui fa vedere per esempio appunto lo schema di diffusione delle azioni sismiche quindi sisma da sinistra prende e scarica poi una specie di contraforte che viene realizzato dall'edificio a destra capite bene quindi che se spostiamo la cellula in esame da quella centrale a quella per esempio tutta a destra con un sisma che arriva da sinistra l'edificio che abbiamo a destra non può avere la possibilità che si realizzi questo contraforte virtuale e quindi potrà e avrà se non ben contrastato con altri con altri vincoli dei danni veramente superiore capitolo 8 questo è uno degli esempi che viene riportato nel libro della chiesa di lucerna qui ripeto vi ho portato solo due immagini un paio di immagini giusto per far vedere lo studio ma poi è veramente molto interessante analizzare tutti i ragionamenti che hanno fatto gli ingegneri in questo studio in questo semplice di analisi qui si vede il cinematismo sulla destra il cinematismo che si instaura nel caso in cui arriva un sisma da destra consideriamo che a peggiorare c'è anche questo coperto che è spingente quindi c'è la rotazione verso l'esterno della facciata per scarsi collegamenti chiaramente in questo caso verso l'esterno e questo provoca poi anche la formazione di un'altra cerniera sulla parte di solaio che crolla formandosi una cerniera al centro verso il centro in questo caso un intervento previsto che hanno fatto è l'inserimento di catene per appunto evitare questo ribaltamento fuori piano e quindi il successivo crollo del solaio centrale secondo esempio è un edificio a gubbio qui siamo anche qui in un aggregato strutturale quindi un aggregato edilizio qui a destra si vede nella pianta che è stata cerchiata una parete che è stata esaminata appunto in questo esempio le condizioni di vincolo della parete qui vediamo appunto che si tratta di una parete esterna dicono di una cellula di intasamento quindi siamo all'interno ripeto di un centro storico e adesso quindi dice pertanto è da considerarsi scollegata dai due muri di spina ad essi ortogonali che strutturalmente appartengono alle cellule adiacenti il primo solaio appoggia sulla parete ed è collegato bene mentre i solai soprastanti sono paralleli alla parete e non sono collegati la copertura non è spingente ma è scollegata dalla parete che stiamo analizzando la muratura di qualità intermedia è nient'altro qui fa vedere a destra che in questo caso come vediamo il meccanismo di collasso è la formazione di una cerniera al primo solaio con un ribaltamento fuori piano della parete in esame l'idea è stata questa durante appunto le analisi che hanno fatto in questo esempio di inserire un cordolo in copertura nell'ultimo piano e quindi a questo punto il meccanismo che va analizzato e va verificato è quello di una pressoflessione fuori piano con la formazione di appunto di questa cerniera a livello del secondo solaio e loro hanno analizzato e verificato concludendo questo è un libro che contiene concetti interessanti sulla ristrutturazione di edifici in muratura e contiene anche molti esempi utili quindi è assolutamente consigliato vi ricordo che le slide che mostro nei video sono a vostra disposizione sul mio canale telegram qui sotto trovate il link per iscrivervi inoltre se vi è piaciuto il video condividetelo con le persone a cui pensate possa interessare lasciate un like e il vostro contributo nei commenti